buongiorno da obiettivo news oggi 21 dicembre a san pietro canisio e del world snowboard day ossia la giornata mondiale della snowboard la giornata mondiale della snowboard è un evento annuale che celebra questo sport molti giovani sono attratti dalla sua adrenalina e dalla sensazione di libertà che si prova quando si scivola sulla neve lo snowboard è uno sport che richiede molta abilità e tecnica ma può essere appreso da chiunque con un po di impegno e dedizione la giornata mondiale della snowboard è stata creata nel 2006 da un gruppo di snowboarder giapponesi questi appassionati hanno deciso di creare un evento globale per celebrarlo hanno scelto il 21 dicembre come data perché questo è il solstizio d'inverno simbolizza passaggio dall'oscurità alla luce e si adatta perfettamente alla celebrazione dello snowboard che richiede molta luce e un sacco di neve